Ecco cari amici, dopo duemila chilometri siamo infine arrivati a Madrid. Siamo qui nella porta di Alcalá, la porta che ci apri per entrare in questa bellissima città espagnola. Allora con te vivremo tutte le emozioni e tutta l'intensità di spiritualità e di attività di questa GMG. Io, te, il Papa di tutta la gioventù del mondo.